Essendo l'unico parlamentare della provincia di Teramo, penso che era un atto dovuto, visto che l'azienda è così importante, modello oserei dire, per la nostra economia, non soltanto regionale ma anche nazionale, perché è un'azienda che è cresciuta molto negli ultimi 30 anni, un'azienda che dell'innovazione, della ricerca, della sicurezza sul posto di lavoro è stato sempre all'avanguardia, è cresciuta da una risposta occupazionale importantissima, quindi aver assistito e appreso dalle dichiarazioni dei rappresentanti dei lavoratori, che c'è stato lo sciopero, penso che sia stata ancora prima purtroppo una mancanza di comunicazione nel ruolo che è preposto dalla Regione Abruzzo, cioè quello delle politiche industriali sul territorio, di mettere insieme e non arrivare a questi estremi gesti che penso che non aiutano a nessuno, né all'azienda né ai lavoratori. Quindi non potendo domani essere presente all'incontro, anche perché ho un impegno a Roma, ma comunque come diceva bene lei non sono stato invitato, vorrei fare delle domande ai rappresentanti dell'azienda, quindi darò agli sindacati e a voi ovviamente i testi delle domande che volevo fare all'azienda, ma tutto quanto questo nel senso della collaborazione, quindi è mia intenzione, come è giusto che sia, mettermi a disposizione per tutto quello che io posso fare nell'ambito del mio ruolo istituzionale per cercare di fare in modo che questi 140 interinali possano essere confermati a tempo indeterminato e l'azienda possa continuare a crescere bene come ha fatto fino ad oggi. Sottanelli è vicino ai lavoratori, così come lo è anche vicino al mondo produttivo. Io penso che il binomio dei lavoratori e delle aziende sia un binomio che vada gestito e soprattutto attenzionato in ugual misura, cioè si crea occupazione, si crea ricchezza se ci sono persone che investono sul territorio, tant'è che una delle domande è, vorremmo capire quanti investimenti hai in mente di fare in futuro, sappiamo quelli che abbiamo toccato con mano in passato, perché appunto è importante anche che la politica sia vicino al mondo produttivo che crea ricchezza, quella ricchezza che viene ridistribuita al territorio. Quindi come rappresentante della provincia di Teramo penso che per me sia un atto d'obbligo porre attenzione a quello che potrebbe essere, così come è stato paventato dai sindacati, un problema almeno per i 140 interinali che ovviamente dobbiamo cercare di proteggere con tutte le nostre forze perché sono 140 famiglie della provincia di Teramo in un momento particolare della nostra economia qui teramana e quindi bisogna che attiviamo tutti, alziamo le difese, tutte le istituzioni e io penso che dobbiamo lavorare tutti quanti insieme.